Almeno 20.000 fedeli e pellegrini in piazza San Pietro per l'Angelus di domenica scorsa, Papa Francesco si è affacciato dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico in compagnia di una nonna e di un giovane. Oggi, mentre molti giovani si apprestano a partire per la giornata mondiale della gioventù, si celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Per questo sono accanto a me un giovane e una nonna, il nipote e la nonna. Un applauso a ambe due. I due appuntamenti, ha spiegato il Papa, ci spingono a riflettere su una tematica di fondamentale importanza per il nostro futuro. Appello del Papa a darsi da fare per soccorrere i migranti abbandonati nelle zone desertiche del Nord Africa. In tanti, ha ricordato nel Post Angelus di questa domenica, continuano a morire nel tentativo di raggiungere le coste del Mediterraneo. Rivolgo il mio appello, in particolare ai capi di Stato e di governo europei ed africani, affinché si preste urgente soccorso e assistenza a questi fratelli e sorelle. Il Mediterraneo non sia mai più teatro di morte e di disumanità. Altro fronte di preoccupazione, gli eventi climatici estremi in molti paesi, a cominciare dalle inondazioni di questi giorni in Corea del Sud. Rinnovo il mio appello ai responsabili delle nazioni, perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. È una sfida urgente e non si può rimandare. Che guarda tutti, proteggiamo la nostra casa comune. Francesco non ha mancato di rivolgere il suo pensiero anche alla martoriata ucraina. E continuiamo a pregare per la pace, in modo speciale per la cara ucraina, che continua a subire morte e distruzioni, come purtroppo è accaduto anche questa notte a Odessa. L'importanza di saper guardare nel proprio cuore per distinguere tra l'erba buona e quella cattiva. Il Papa ne ha parlato durante la Catechesi prima dell'Angelus di questa domenica, riflettendo sul Vangelo del giorno. Tutti, ha spiegato, siamo tentati di giudicare gli altri, ma innanzitutto occorre imparare ad esaminare cosa succede dentro di noi. C'è un bel metodo per farlo, quello che si chiama l'esame di coscienza, che è vedere cosa è successo oggi nella mia vita, cosa ha colpito il mio cuore e quale decisione io ho preso. Solo così possiamo relazionarci al nostro prossimo, senza pregiudizio. Come ci è facile riconoscere la loro cisania e quanto è difficile invece saper vedere il buon grano che cresce. Francesco ha invocato la grazia di sapere individuare il bene, anche perché il mondo non è perfetto, anzi, ha avvertito il Papa, l'erba buona e quella cattiva spesso crescono assieme. Non è uno sguardo ingenuo, è uno sguardo credente, perché Dio, agricoltore del grande campo del mondo, ama vedere il bene e farlo crescere fino a fare della mietitura una festa. In occasione dell'omelia pronunciata durante la messa per la terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani, celebrata nella Basilica Vaticana davanti a circa 8.000 fedeli, il Papa ha esortato a coltivare relazioni proficue e feconde fra le diverse generazioni. Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino dei concentrati di solitudine. Non succeda che la politica, chiamata a provvedere ai bisogni dei più facili, si dimentichi proprio degli anziani. La riflessione di Francesco si è articolata a partire dalle tre parabole contenute nel Vangelo Domenicale. Il Pontefice ha spiegato come grano e zizzania convivano insieme nel mondo e come spesso ci si illuda di poter strappare il male con le proprie forze, con il rischio di essere impazienti e intransigenti verso chi è caduto in errore. Francesco ha poi proseguito paragonando la vita dell'uomo a quella del minuscolo granello di senape che cresce fino a diventare un albero, il cui scopo è quello di fare ombra a chi lo desidera e offrire uno spazio a chi vuole costruirci un nido. Infine, l'invito a crescere insieme come lievito e farina. Gesù, ha spiegato Francesco, usa il verbo mescolare che richiama la mistica del vivere insieme. Al termine della celebrazione si è poi svolto il passaggio di consegne della Croce del Pellegrino. Cinque gli anziani che hanno consegnato il testimone ad altre tanti giovani, in procinto di partire per la GMG di Lisbona. Nonostante il periodo di vacanza, Papa Francesco continua a svolgere udienze in Vaticano. Ad esempio, sabato 22 luglio, nello studio dell'Aula Paolo VI, ha ricevuto il Presidente della Repubblica del Ghana, il quale successivamente ha avuto colloqui in Segreteria di Stato. Martedì 18 luglio, invece, Francesco ha incontrato i circa 250 bambini dai 5 ai 13 anni che partecipano all'edizione 2023 della cosiddetta Estate Ragazzi in Vaticano, che si protrarrà fino al prossimo 4 agosto. Un momento di festa che si è svolto in Aula Paolo VI tra musica, balli e giochi. Il pontefice, come un nonno in mezzo ai nipoti, ha ricevuto tanti regali dalle mani dei ragazzi, i quali, riuniti in piccoli gruppi, hanno sfilato davanti a lui per donargli soprattutto dei disegni realizzati su grandi cartoni colorati. Non sono mancati anche dei braccialetti e delle medaglie prima di entrare nel vivo di una vera e propria mini-intervista realizzata, tra emozione e gioia, da alcuni bambini. Quale messaggio possiamo portare ai nostri genitori eroi? È stata la prima domanda. La prima cosa che dobbiamo dire ai genitori è grazie. Grazie. Perché ci aiutano a vivere, ci aiutano a crescere. Diciamo insieme ai genitori grazie. Uno, due, tre. Grazie. Ai nostri genitori. Grazie. L'ultima volta. Grazie. Chi sono i supereroi del Papa? Chi sono i supereroi del Papa? Io non so se tutti condividono quello che io dirò. Sapete chi sono i miei supereroi? I nonni. Perché i nonni hanno formato una famiglia, poi sono invecchiati, ma i nonni hanno la saggezza. E per questo è importante che voi parliate con i nonni. Voi parlate con i nonni o no? Non capisco. Nel mondo digitale come possiamo essere eroi? Grazie. Il mondo digitale è importante perché è di utilità. È di utilità. Ma se tu ti lasci prendere dal mondo digitale, tu sarai sconfitto. Il mondo digitale è per usarlo bene, per crescere io, per far crescere la società. Ma se io finirò che sia il mondo digitale chi mi usa a me, non vanno. Avete capito? Dobbiamo usare il mondo digitale? Dobbiamo usarlo o no? Sì. Sì, perché dal contrario viveremo in altri secoli. Nei giorni tra il 17 e il 19 di luglio, il cardinale Matteo Zuppi si è recato a Washington per proseguire la missione di mediazione affidatagli da Papa Francesco. Per il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, quella negli Stati Uniti si tratta della terza tappa della sua missione, dopo le visite a Kiev il 5-6 di giugno e a Mosca il 28-29 dello stesso mese. Il principale incontro del porporato italiano è stato quello alla Casa Bianca con il presidente statunitense Joe Biden. Nel corso del colloquio, durato più di un'ora e svoltosi in un clima di ascolto reciproco, si è discusso dell'impegno della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le diffuse sofferenze causate dalla continua aggressione della Russia in Ucraina, ma anche del sostegno vaticano per la questione del ritorno a casa degli oltre 19.000 minori ucraini. Il cardinale Zuppi ha anche consegnato a Biden una lettera del Papa sottolineando il dolore di Francesco per la sofferenza causata dalla guerra. L'inviato pontificio, insieme alla delegazione vaticana, ha avuto anche altri due incontri. Il primo con alcuni membri della Commissione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del Governo degli Stati Uniti, ai quali il porporato ha presentato la natura e lo svolgimento della sua missione, riflettendo insieme sulle modalità con cui la si potrebbe rendere più efficace. Il secondo, invece, si è svolto presso la sede del Congresso ed è stata l'occasione per il cardinale di informare i partecipanti sugli incontri avuti durante le varie tappe della sua missione di pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.